Il Castiglione del Lago espugna il Santa Barbara di Branca e torna alla vittoria dopo due partite. Terza sconfitta di fila per la squadra di Lisarelli in una giornata decisamente storta, visti tre legni colpiti. La prima occasione del match è per gli ospiti, con Bevilacqua che si mette in proprio e calcia di destro senza trovare lo specchio. Al quindicesimo risponde il Branca a sua azione d'angolo, con Marchi che spizza sul secondo palo ma Matarazzi non arriva per questione di centimetri. Al ventesimo Castiglione del Lago in vantaggio, cross dalla destra di Deja che pesca in area Filippo Barbarossa, bravissimo a battere Sergiacomi con un colpo di testa. Il Branca reagisce, al venticinquesimo ci vuole tutta la bravura di Balli nelle gare a De Julis la gioia del gol. Al ventottesimo altro spunto di Bevilacqua che dall'altra parte, dal nulla, fa partire un siluro sventato da Sergiacomi con una grande risposta. Al trentasettesimo il Branca ha una grande occasione per il pari, cross di Gatti per Fastellini che viene anticipato da Barbarossa, che per poco non la mette nella propria porta, interviene Balli che manda la palla sui piedi di De Julis, che viene murato. Sul ribaltamento di fronte, calcio di rigore per il Castiglione del Lago, per un atterramento di Sorbelli ai danni di Indiaie. Lo stesso nove ospite trasforma spiazzando Sergiacomi. Il Branca non ci sta e prova a reagire, con De Julis che calcia debolmente tra le braccia di Balli. Al quarantacinquesimo malinteso tra Sergiacomi e Matarazzi per poco non combina la frittata, con Diaie pronto ad approfittarne. Nella ripresa si torna in campo e dopo neanche un minuto il Branca sferò il gol, con una punizione di De Julis che colpisce il palo interno ed esce tra l'incredulità generale. Al settimo contropiede orchestrato dal Castiglione del Lago che manda al tiro bevi l'acqua, Sergiacomi si supera ed evita la terza rete. Al diciottesimo altra punizione di De Julis, questa volta diretta all'incrocio, ma Balli è straordinario a deviare sul palo. Subito dopo vehementi proteste del Branca, che invoca un tocco di mano sugli sviluppi di un calcio piazzato. Per Antonelli si può giocare. Al venticinquesimo c'è spazio per un altro legno, questa volta colpito da Patrignani. Alla mezz'ora, minuti alla palla del Tris, ma di sinistro calcia addosso a Sergiacomi. Al trentaquattresimo i locali tornano in partita, punizione dalla destra di De Julis che trova la testa del nuovo entrato Berrettini, classe 2006, che batte Balli per il 2-1. Due minuti e Aghibe si invola in solitaria trovando la risposta di Sergiacomi e sul proseguo dell'azione Barbarossa calcia alto. Al quarantaquattresimo poi occasionissima per il Branca con Fastellini, che dopo un'indecisione della difesa lacustre va a contrasto con Balli. Palla che si impenna e finisce sui piedi di Berrettini, che calcia a botta sicura, ma il tiro viene salvato sulla linea. Nel sesto di otto minuti di recupero il Castiglione del Lago va vicino al Tris, con Barbarossa che serve Milton Orlari, che incrocia troppo il suo destro. E allora il Santa Barbara finisce così. Branca 1, Castiglione del Lago 2. Ettore Marchi, una giornata decisamente storta per il Branca, tre legni, tante occasioni e alla fine anche il pareggio all'ultimo della città di Castello. Sì, è stata una partita diciamo a due facce, perché il primo tempo non siamo stati, Branca che siamo stati nelle ultime gare, siamo andati sotto di due gol. Poi, come hai detto te, sono stati tre pali, anche altri episodi che magari in area di rigore potremmo essere più fortunati. Perché sono stati un paio di episodi, almeno dubbi credo, però diciamo che rimane tutte le nostre mani, perché dobbiamo fare il nostro percorso, dobbiamo vincere almeno una partita delle due, quindi andiamo avanti. Allora mister, è stato un Castiglione del Lago da due volti, grande primo tempo, secondo tempo di sofferenza, alla fine l'ha portata a casa. Credo che le partite sono tutte sofferenza quando vinci e giochi fino in fondo. Gli avversari hanno fatto una partita tosta, come è giusto che sia, hanno sfruttato le loro caratteristiche, sono importanti, ho dei giocatori davanti importanti, e penso sia normale soffrire. Abbiamo l'occasione per fare il terzo gol, non l'abbiamo fatto, come gli avversari ci hanno creduto fino alla fine. Penso che sia in linea con quello che è la gara, una partita vera, con uno stante 30 gradi, combattuta fino alla fine in maniera dura, ma diciamo anche giocata da tutte e due squadre ha viso aperto. Quindi è una partita importante direi.